11 settembre 2001, il fischio dell'arbitro alle 15.30 per la prima partita di Coppa che si disputa a Cupra Montana e che vede scontrare la squadra di casa contro la San Paolese. Vediamo quali sono gli animi dei due allenatori, Angelo Ortorani per il Cupra Montana e Giorgio Latini per la San Paolese. Si ricomincia dopo un anno e mezzo e oltre di stop, per cui c'è voglia, c'è entusiasmo. E' euforici perché è tanto che non giochiamo più, quindi la prima partita ufficiale è sempre motivante, quindi speriamo di approcciare bene. Quali sono gli obiettivi per il nuovo campionato? L'obiettivo è quello di fare bene, di essere il protagonista fino alla fine e di poter competere con le migliori squadre di questo girono. L'obiettivo quando ci sono i tre punti in palio è quello di vincere le partite, tutto qua. Più in fretta le vinciamo e più ci allontaniamo da quelle che sono le zone pericolose. Come sono andati gli acquisti per questa nuova stagione? Ma guardi, questi sono due, Troilo Nicola e Cavalese Simone, sono due ragazzi interessanti che ci potrebbero aiutare tantissimo per l'inizio del campionato. Noi contiamo sul gruppo storico perché abbiamo gran parte dei ragazzi che avevamo già due anni fa, tre anni fa, è andato via Serrantoni, abbiamo preso Costarelli, abbiamo preso Ambrosi e non abbiamo fatto altri grossissimi ritorni.